Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi dirò dove trovare la combinazione e la cassaforte nella nave. Vi premetto che purtroppo ho saltato due casseforti, spero di recuperarle in futuro, quindi prima di questa ce ne sono altre due. Dove si trova la combinazione? È molto semplice. Una volta che avete recuperato la balestra, qui appena entrate praticamente, invece di salire le scale andate in fondo per recuperare un documento, dove sopra lo stesso è presente una combinazione. La cassaforte invece è collocata nella sala comandi e ve la mostrerò tra breve, ma vi anticipo che durante il percorso ci saranno tantissimi infetti, quindi preparatevi. Rieccomi, se siete arrivati sani e salvi qui e quindi avete salito queste scale, vi troverete la cabina dei comandi e quindi la cassaforte. La combinazione per aprire la cassaforte è 90-77-01, quindi 90-77-01 e la cassaforte è aperta. Grazie. Grazie. Grazie.